È in arrivo il freddo invernale e con l'abbassarsi delle temperature aumenta il rischio di contrarre la classica influenza stagionale che, come ogni anno, metterà a letto milioni di italiani, soprattutto anziani. Ed è proprio agli anziani che è rivolto l'allarme, lanciato dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha scoperto che siamo tornati ai livelli precedenti il 2000, quando solo la metà degli anziani si vaccinava. Negli ultimi cinque anni il numero degli italiani di tutte le età che si sono vaccinati contro l'influenza è calato di ben sei punti percentuale ed ogni punto in meno rischia di comportare migliaia di casi di influenza in più perché la persona che si vaccina non protegge solo se stesso ma anche gli altri. La vaccinazione è di dimostrata sicurezza innanzitutto, questo è importante dirlo, ma anche efficacia. Riduce dell'80% la possibilità di malattia, ma soprattutto i dati confermati di efficacia riguardano una riduzione di mortalità, oltre il 50% in meno di mortalità per problematiche respiratorie e cardiache. La diminuzione delle vaccinazioni anti-influenzali è dovuta soprattutto ai falsi allarmi diffusi sui presunti danni del vaccino o su altrettanto presunte impurità del vaccino stesso. In nessun caso gli allarmi sono stati confermati, anzi è accertato l'effetto protettivo del vaccino se fatto per tempo. La vaccinazione quindi per avere una copertura adeguata deve essere fatta almeno 10-15 giorni prima dell'epidemia vera e propria, anche se già dei casi rari ci sono. Quindi si può fare in ogni momento, ma questo è il momento buono per avere una copertura complessiva per tutta la stagione.